Amici del mio viaggio nel mondo, stasera portiamo a Valeria da Kiko Che devi prendere? No, Kiko Che devi prendere con me? Va bene, che cosa devi prendere stasera? Devo acquistare uno smalto, non so ancora quale colore Devo decidere, quindi adesso vediamo insieme E vi mostro, datemi un consiglio anche voi, dai Ecco Kiko, vale allora cosa devi prendere? Cosa prendi? Devo prendere uno smalto Mi piacciono, volevo prenderlo zaro perché io ho tutti i smalti scuri Quindi su quale colore andiamo? Su quale colore andiamo? Uno di questi Vediamo Prugna Prugna Colore rosso Questo già ce l'ho Non è male questo Maroncino chiaro questo Maroncino chiaro? Mi piace? Eh, pure bellino Questi due e forse anche questo Eh Cosa stai cercando? Cosa stai cercando? Mascara Ok Però che ci pensi, mi serve anche il mascaro? Ma pure il mascaro? Dallo smalto siamo passati al mascaro Chissà dove andremo a finire adesso Su quale? Pure una matita in realtà Pure una matita Vai Sì Ma devo prendere l'ultima cosa L'ultima cosa? Ancora? È immenso questo Kiko È inizioso questa macchina Chissà cosa farà questa macchina Cosa non la fa questa macchina? Si può personalizzare con un euro in più Sì? Stampare quello che vuoi Sì? Ah, fantastico Adesso stai personalizzando Sì esatto Il rossetto Allora vuoi personalizzare un rossetto? Quale vuoi personalizzare? Quale prendi allora? Uno di questi due Vedi quello a sinistra Questo? Più bello? Sì, quello a sinistra Sì A destra Questo? Sì Dovevo questo, dai Preso? Sì Personalizziamo il mio rossetto Scegliamo la forma, il colore Sì, quindi stiamo personalizzando il mio rossetto La torta, il cuore, la corona Sì Il cuore di fiori Sì Io scelgo questo Il cuore è bello You and me Il Duomo No? Il Duomo, eh? Il Duomo Il Duomo di Milano Sì Stiamo personalizzando il nostro rossetto Disegnando il Duomo E la scritta Valeria Ecco Quindi personalizza solo l'esterno Pensavo personalizzassi anche il colore Esatto Invece soltanto fuori Solo il kiss Personalizzate il mio rossetto con il nome Valeria Con la scritta Milano e il Duomo Il disegno del Duomo di Milano Bellissimo Bello, eh? Bellissimo Questo è il colore Ok Fatemi sapere se vi piace Scrivetemi nei commenti Il costo è di soltanto un euro Quindi vedi, laser Macchi Esatto Quindi scegliete il rossetto che volete Quindi il rossetto costa 9,99 Per personalizzare soltanto un euro Ahah Io ho personalizzato con il Duomo di Milano E la scritta Valeria Milano e la scritta Valeria Soprattutto Perfetto